ciao a tutti io sono marco de domenico uno speaker e un doppiatore pubblicitario sono qua per informarvi che a breve su www.emotionvoice.com sarà disponibile per l'appunto emotion voice si tratta di un videocorso di dieci lezioni da un'ora circa dove metto a disposizione di tutti voi tutto quello che ho imparato nel corso degli ultimi 25 anni di lavoro di cosa si parlerà in questo corso beh dell'uso consapevole del diaframma per una perfetta respirazione fino alle più moderne tecniche di registrazione digitale della voce e di mix si passerà anche per le regole della edizione italiana imprescindibile per chi sceglie di fare questo lavoro fino all'emissione perfetta dei suoni dieci lezioni mediante le quali chi lo vorrà imparerà a riconoscere a eliminare definitivamente non solo i propri difetti di pronuncia ma anche il proprio accento regionale d'origine per parlare quindi un italiano perfetto anzi un italiano in perfetta edizione italiana al termine delle lezioni poi ci ritroveremo tutti assieme per una maxi lezione finale dal vivo ci potremo quindi anche conoscere fisicamente per tutta la durata delle lezioni comunque io sarò a vostra completa disposizione nel senso che potrete scrivermi in qualunque momento allegando i vostri audio allegando gli audio esercizi che vi proporrò in maniera che io potrò ascoltarvi di volta in volta correggervi migliorarvi dove credo possiate migliorare e indirizzarvi verso potremmo chiamarla la strada verso il successo amo anche allegare dei documenti pdf sui quali troverete gli esercizi per la lezione per l'uso della voce delle letture credo molto importanti anche di approfondimento che dire ancora niente vi aspetto qui su www.emotionvoice.com per questo straordinario corso che abbiamo scelto di chiamare i voice io sono marco de lomenico e vi aspetto non mancate ciao grazie a tutti